I ricoveri salgono a 215 in regione, 642 nuovi positivi e 4 i decessi. Focolaio a Casa Serena, a Grado ci sono anche 3 ospiti ospedalizzati. Domani al via le prenotazioni per le terze dosi agli over 40. In settimana il confronto tra governo e regioni che spingono verso misure che favoriscano i vaccinati. Il sottosegretario alla salute Costa, obbligo, terza dose per sanitari arriverà a giorni. Attendiamo che il CTS si esprima sul booster a 5 mesi. Dopo due anni di trattative per la cessione di impianti e rifugie terreni turistici e promoturismo, l'accordo, saltato nuovamente a causa della resistenza di quattro soci di maggioranza, fa arrabbiare gli operatori e l'assessore Vini che minaccia di ritirare i finanziamenti alla località. Domani sera i bianconeri, dopo la vittoria col Sassuolo, puntano a ritrovare continuità. Assente solo lo squalificato Macengo, non ci sono altri problemi di formazione, probabile la difesa a tre. Inizia per l'Udinese, ha detto il tecnico, un minicampionato che si concluderà a dicembre con partite sulla carta Abordabili. Juric teme l'Udinese, l'ho sempre sofferta. Buonasera a tutti e buona domenica, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale che apriamo facendo il punto sull'andamento dei contagi in regione con la settimana che sta per cominciare, che sarà l'ultima in zona bianca. In friuli Venezia Giulia sono 642 nuovi casi di positività al SARS-CoV-2 rispetto a ieri a fronte di 18.745 tamponi effettuati per un tasso di positività pari al 3,4% in aumento rispetto al 2,5% di ieri. 4 nuovi decessi associati al virus che fanno salire il totale da inizio pandemia a 3.930. A perdere la vita una 92enne di Muggia in casa di riposo, un 88enne e una 77enne Triestini deceduti in ospedale e un 74enne Pordenonese spentosi anch'esso in ospedale. L'ultimo bollettino fornito dalla regione informa anche che sono 26 le persone con il virus ricoverate in terapia intensiva e 215 i positivi negli altri reparti. 5.830 inoltre le persone in isolamento. Dati ormai da zona gialla, anche se la prossima settimana al friuli Venezia Giulia, ma anche il resto d'Italia, resteranno bianchi. Rispetto ai nuovi casi registrati all'interno del Servizio Sanitario Regionale, nell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono risultati positivi un infermiere e un terapista. Per quanto riguarda le residenze per anziani, rilevati 9 casi tra gli operatori a Trieste, Udine, Pordenone e Grado e 26 tra gli ospiti a Grado, Romano. Onchi dei Legionari e San Daniele dei Friuli. Rilevati inoltre i contagi di due persone rientrate dall'estero. Intanto, sul fronte della campagna vaccinale anti-covid, da domani anche in Friuli Venezia Giulia saranno aperte le prenotazioni per le terze dosi di vaccino per la fascia d'età 40-59 anni, come effetto di una recente circolare del commissario Figliuolo. Utilizzabili a tal fine col center, cup, farmacie e web app. La dose di richiamo potrà essere effettuata dagli over 40, purché siano trascorsi almeno 180 giorni dal completamento del primo ciclo di vaccinazione. Per quanto riguarda le nuove misure da adottare contro la pandemia e in particolare nei confronti dei non vaccinati, tra domani e martedì Palazzo Chigi riceverà i rappresentanti della conferenza delle regioni per analizzare le varie proposte. Il presidente di quest'ultima, Massimiliano Fedriga, ha ribadito in un'intervista su Rai3 a mezz'ora in più. Proporremo al governo di scegliere il più presto possibile delle misure che possano favorire le vaccinazioni, garantendo, in caso di passaggio di zona, la possibilità di superare quelle restrizioni per le persone che si sono vaccinate o che hanno superato la malattia, cercando così di convincere anche gli ultimi indecisi e dare certezze alle imprese, alle quali, afferma Fedriga, non possiamo dire vediamo in che zona sarete e se terrete aperto o no. Situazione difficile a Casa Serena, a Grado, in attesa di quelli che saranno gli esiti dei tamponi che si continuano a fare per tenere sotto controllo la situazione. I dati certi sono quelli pubblicati in un comunicato del Comune di Grado ieri sera con gli ospiti risultati positivi che sono isolati in una zona rossa Covid che è stata organizzata per l'emergenza. Ieri sera risultavano 19 ospiti in zona rossa Covid, tutti stabili e tre invece ricoverati in ospedale e poi ci sono anche degli operatori, una decina ha comunicato la positività al Covid. I dipendenti rimasti, fa sapere la struttura, stanno dando al limite delle forze il loro contributo oltre il normale orario di lavoro con grande senso di responsabilità per riuscire a coprire il personale costretto all'isolamento e a dare assistenza adeguata agli ospiti colpiti dal virus. La curva dei contagi che cresce, lo fa anche a livello nazionale, fa sì che il mondo scientifico lanci un allarme, bisogna intervenire perché il trend è in crescita. Questo è il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, 9.709 i positivi al test Covid nelle ultime 24 ore, sono 46 le vittime. Poi per quanto riguarda il tasso di positività è stabile al 2%, sono 520 pazienti in terapia intensiva in Italia, 8 in più rispetto a ieri, ricoverati con sintomi sono 95 in più rispetto a ieri, ovvero 4.345. Dicevamo il mondo scientifico che lancia l'allarme, il trend è in crescita e bisogna fare qualcosa. Che cosa farà il Governo? Sentiamo. Con il Natale alle porte, l'attuale aumento dei casi e la previsione di un'impennata in inverno, il Governo spinge sull'acceleratore e si appresta a varare il cosiddetto Super Green Pass che arriverà molto probabilmente a dicembre, dice il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. Una misura pensata per tutelare maggiormente o premiare i soggetti vaccinati, ma che inevitabilmente è destinata a creare polemiche e malumori. L'argomento sarà comunque in cima all'ordine del giorno della riunione che il Premier Mario Draghi farà all'inizio della prossima settimana, probabilmente martedì, con le regioni che per la maggior parte si sono dette a favore della stretta per evitare nuove chiusure. Palazzo Chigi però è al lavoro anche su altri fronti caldi, tra cui l'obbligatorietà del vaccino per alcune categorie, in primis medici, docenti e forze dell'ordine, e la riduzione della durata di tamponi e Green Pass. Da lunedì poi si partirà con la somministrazione delle terze dosi per gli over 40, anticipando di dieci giorni la data inizialmente prevista. La misura più vicina resta comunque quella del Green Pass con restrizioni per i no-vax. L'idea del Governo, che dovrà poi affrontare la questione dei controlli e degli eventuali risvolti riguardo alla privacy, è quella di limitare la validità del certificato ottenuto con i tamponi solo per l'accesso al lavoro o ai servizi essenziali. Altri indizi su quella che è la direzione che prenderà il Governo. Gli ha dati oggi in un'intervista il sottosegretario della salute Andrea Costa. Questa settimana ha detto che inizierà un percorso con le regioni, inizieremo un confronto per arrivare a una condivisione per come gestire eventualmente la situazione se ci dovesse essere un ulteriore peggioramento del quadro epidemico. Si è scelto un percorso prudente per tornare alla normalità in Italia, ha detto, e c'è stata grande adesione comunque alla vaccinazione. È chiaro che bisogna agire con nuove iniziative. E ad esempio l'obbligo della terza dose per le categorie per cui è già previsto l'obbligo vaccinale penso sia un provvedimento che sarà approvato questa settimana. Attendiamo invece indicazioni del CTS aggiunto per capire se è opportuno anticipare la terza dose a cinque mesi dal completamento del ciclo primario. Anche la scelta di riportare la durata del Green Pass a nove mesi credo sia una scelta ragionevole basata sulle evidenze scientifiche. Costa che poi ha fatto un appello ai tifosi che vanno allo stadio, ha detto abbiamo riaperto al 75% gli stadi perché riteniamo sia giusto per dare un segnale al nostro paese, ma dobbiamo anche fare un appello ai tifosi ad usare la mascherina perché c'è veramente bisogno in questo momento di rispettare ancora tutte le regole e di far prevalere il senso di responsabilità. Intanto nuove ricerche in materia Covid indicano il cervello tra i bersagli principali del virus fino al 70% dei pazienti a sindrome neurologica post-infezione. Il cervello è tra i bersagli principali del virus SARS-CoV-2. Se nella prima fase della malattia e durante un eventuale ricovero i sintomi sono infatti soprattutto respiratori e metabolici, una volta risolta la fase acuta, gli strascichi sono invece principalmente neurologici, come dimostrano i dati dello studio Covid Next dell'Università di Brescia e dell'Istituto Neurologico Besta di Milano. Questi dati si aggiungono alle numerose ricerche che hanno osservato come la sindrome neurologica post-Covid possa riguardare fino al 70% dei pazienti che hanno avuto sintomi medio-gravi, lasciando disturbi di memoria, concentrazione, del sonno e dell'umore. Le difficoltà neurologiche post-Covid potrebbero dipendere in parte anche da alterazioni della morfologia cerebrale come effetto diretto del virus sui pazienti contagiati, che spesso sono andati incontro ad una riduzione volumetrica in aree chiave del cervello. Tuttavia anche la mancanza di interazioni sociali ha comportato una riduzione della materia grigia, in particolare su giovani e anziani. È perciò opportuno, concludono gli esperti, monitorare la salute neurologica e psichiatrica di tutte le persone che hanno avuto l'infezione. Andrebbero monitorati anche i bambini e gli adolescenti che hanno subito un intenso stress per intervenire tempestivamente con terapia di supporto in caso di sintomi o se compaiono patologie come la depressione. Torniamo ora sul confine con la Slovenia, al centro di tanti dibattiti in questa settimana. Tema piuttosto caldo per quanto riguarda i controlli del Green Pass, ma continua ad essere un tema caldo anche in fatto di immigrazione clandestina. Ancora rintracci oggi 45 migranti in nazionalità pakistana, bengalese, indiana, irachena e iraniana sono stati trovati in località Aquilinia, in via dell'Istria e accompagnati presso la struttura della polizia di frontiera a Fernetti. Questo ha suscitato l'ira, diciamo così, o perlomeno nuovi interrogativi da parte dell'assessore alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, che fine hanno fatto, ha detto, le annunciate riammissioni con la Slovenia, unico strumento per combattere l'immigrazione clandestina e i trafficanti di esseri umani al nostro confine. In un momento di grande criticità dei contagi, soprattutto nei Balcani, ha affermato Roberti, non capiamo per quali ragioni la ripresa delle riammissioni annunciata tanto alle istituzioni quanto alle organizzazioni sindacali sia rimasta lettera morta. È una situazione insostenibile sulla quale siamo costretti a incalzare nuovamente, stante che l'amministrazione regionale non ha la potestà di affrontare il tema in prima persona, quindi il messaggio che è inviato al governo. Cambiamo argomento ora, oggi giornata mondiale in memoria delle vittime della strada e ancora troppi sono i comportamenti errati che portano al verificarsi di gravi incidenti stradali anche nella nostra regione. Per questo la Polizia Stradale insieme alla Questura ha organizzato un weekend di sensibilizzazione e controlli dedicati agli automobilisti. Andiamo a vedere com'è andata. Patenti ritirate, multe, punti decurtati. È il primissimo bilancio del weekend di controlli preventivi straordinari organizzati da Questura di Udine e Polizia Stradale in occasione della giornata mondiale in memoria delle vittime della strada. Segno che i comportamenti pericolosi sono ancora una quotidiana realtà con cui scontrarsi. La giornata internazionale è stata istituita dall'ONU per la prima volta nel 2005, la terza domenica di novembre, dedicata appunto alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. Lo sforzo della Polizia di Stato attraverso la Polizia Stradale si esprime in 397.000 pattuglie che schierate dall'inizio dell'anno in Italia hanno permesso di accertare più di un milione e mezzo di infrazioni, di ritirare 21.255 patenti di guida e di decurtare più di 2.400.000 punti. Questo ovviamente a livello nazionale, ma anche nella nostra regione sono frequenti, più di quanto si pensi, i comportamenti errati che portano al verificarsi o all'aggravarsi degli incidenti. In primo luogo, spiega il comandante della Polizia Stradale di Udina, Alessandro De Ruosi, l'eccesso di velocità, favorito sia dalle caratteristiche dell'autostrada che delle arterie extraurbane. Ma ancora da molti cittadini non sono state assimilate alcune regole base, come la guida con il telefono cellulare o il mancato uso delle cinture nei sedili davanti. Ad esempio, spiega sempre De Ruosi, alcuni degli ultimi incidenti mortali verificatisi in Friuli negli ultimi mesi, forse avrebbero potuto avere un bilancio meno grave se le persone avessero utilizzato correttamente la cintura. Nonostante l'obbligo sia entrato in vigore nel 1988, per qualcuno allacciarle prima di partire rimane ancora un optional, che però può portare a conseguenze tragiche. Non tutte le questure in Italia si sono adoperate per effettuare questa tre giorni di prevenzione specifica De Ruosi e per noi è un'attività fondamentale perché punta a incentivare la responsabilità individuale nel rispetto della propria vita e di quell'altrui. Il nuovo codice della strada intanto non porterà a quegli inasprimenti che da molti erano stati invocati per sanzionare i comportamenti errati, ma soprattutto per regolamentare anche l'utilizzo dei nuovi mezzi di spostamento come monopattini o segway. Di fatto non è stato istituito l'obbligo del casco, né sono stati introdotti i divieti rispetto alle percorrenze di alcune strade. Anzi, il monopattino elettrico, che non dovrebbe superare i 6 km orari in area pedonale e i 20 in area extrapedonale, norma regolarmente non rispettata, potrà percorrere anche le strade extraurbane. Parliamo ora di altri tipi di controlli. Ieri mattina, durante un servizio di controllo programmato, volto al contrasto del consumo allo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuato perso il terminal studenti di Piazzale Ritalevi Montalcini, dal personale del nucleo polizia giudiziaria e dal nucleo cinofilo della polizia locale di Udine, è stata rinvenuta una modica quantità di sostanza all'interno di un pullman di linea extraurbana a servizio degli studenti. I successivi controlli permettevano di sequestrare circa 30 grammi di sostanze di una cospicua somma di denaro. In tale contesto veniva deferito un minorenne per l'ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. E ora veniamo alla querelle tra Sappada e la regione. Dopo due anni di trattative potrebbe saltare il finanziamento di 15 milioni di euro di promoturismo per la mancata cessione degli impianti sciistici. I quattro soci di maggioranza che non vogliono firmare però sono sempre più isolati. Ci riassume il fatto in questo servizio Valentina Bearsi. Due anni di trattativa tra GTS e regione non sono bastati per risolvere la questione relativa a impianti, rifugi e terreni turistici di Sappada. Adesso i soci di maggioranza dopo aver negoziato a più riprese la cessione prima del pacchetto completo, poi dei soli rifugi, vogliono scorporare dall'accordo già raggiunto anche i terreni di cui fa parte il parco giochi in Evelandia con l'ipotesi da quanto è emerso di rivenderli poi al comune. Un'ultima mossa emersa durante l'assemblea dei soci di lunedì scorso in occasione dell'approvazione del bilancio che ha fatto infuriare l'assessore regionale Bini. L'esponente della giunta Fedriga quando ha visto saltare l'accordo per la terza volta a ridosso dell'inizio della stagione invernale non ci ha visto più e ha minacciato di ritirare i finanziamenti alla località, ovvero i 15 milioni che fanno parte del cospicuo stanziamento nel complesso 70 dedicato ai poli montani. Sul piatto dell'accordo fra GTS e Regione ballano 1.650.000 euro per la cessione degli impianti già deliberata dall'assemblea nel 2019, oltre a 460.000 euro per i rifugi e i terreni dove sorge il parco di Evelandia, frutto dell'accordo di questa primavera raggiunto dall'amministratore Promoturismo dopo la prima marcia indietro dei soci di maggioranza. Proprio questa modifica è stata votata dall'assemblea per la prima volta lunedì con i soci di minoranza che hanno tenuto a ribadire l'importanza della cessione a Promoturismo di tutto il pacchetto alle cifre decise dalla Regione. In quell'occasione però si è aperto l'ultimo capitolo con il blitz dell'ulteriore scorporo dei terreni dai termini del patto. Una mossa avanzata dai quattro soci di maggioranza proponenti ad esclusione del quinto, Ivano Fanzutto, unico dissidente, che non ha incontrato l'appoggio degli altri 31, i quali, come riferito dal portavoce De Zordo, hanno comunque votato il bilancio e non hanno sconfessato l'amministratore della società per non ritardare ulteriormente la conclusione della vicenda. Chiederanno però a breve un'altra assemblea. Nel frattempo i rapporti con il comune appaiono compromessi. Il sindaco Pillerhofer, dopo l'ennesimo fallimento della trattativa, ha minacciato le dimissioni se la comunità sappadina non isolerà i quattro imprenditori recalcitranti. I rapporti non sono rosei da tempo. La GTS infatti ha già intentato tre cause al comune e ha inviato recentemente una nuova diffida. Nella diatriba è finito anche il rifugio di Sappada 2000. E gli operatori a Sappada sono sul piede di guerra dopo la minaccia della regione sul ritiro dei finanziamenti. Ne abbiamo parlato con la direttrice del consorzio Sappada Dolomiti Turismo, Monica Bertarelli. Sappada sta vivendo una situazione paradossale in cui la regione è disposta ad investire parecchi denari per riqualificare la nostra località, in particolare gli impianti di risalita e dove una manciata di Sappadini invece sta cercando di ostacolare questo progetto di crescita. Perciò dico che è paradossale. Per fortuna non tutti la pensano così, tant'è che i soci di minoranza della GTS hanno scritto ora una lettera per prendere le distanze da quanto i soci di maggioranza stanno facendo, mettendo in grossa difficoltà non solo la regione ma anche l'amministrazione comunale che si trova logicamente in una situazione di forte imbarazzo e difficoltà. In tutta questa situazione il consorzio turistico Sappada Dolomiti ma soprattutto tutti gli operatori si sono rimboccati le maniche siamo pronti per dare il via alla prossima imminente stagione turistica invernale che davvero alle porte hanno messo le prime nevicate corpose già da questa settimana con un programma di animazione molto intenso per il divertimento, per l'attività all'aperto ma non solo anche per la degustazione della nostra gastronomia. Per tutti con le strutture che si sono adeguate con tutte le restrizioni anti-covid per fornire un servizio sicuro oltre che qualitativamente elevato e poi la Proloco con tutte le attività di animazione. Abbiamo una data importante che è quella del 5 dicembre in cui ci sarà la cerimonia ufficiale delle accensioni delle luci natalizie con uno spettacolo musicale con l'arrivo di San Nicolò e il giorno prima al 4 l'apertura degli impianti sciistici perché nonostante questa situazione grave che ci mette in grossa difficoltà e nonostante la regione si trovi di fronte a queste difficoltà vogliono andare avanti, vogliono sostenerci. Certo sicuramente questi investimenti sono a rischio vista la situazione in cui ha posto GTS le condizioni per la cessione degli impianti ma in questo dobbiamo davvero ringraziare la regione Friuli Venezia Giulia perché sta dando fiducia e perché sta continuando ad assisterci nella promozione del territorio e nella crescita dello stesso. Altra battaglia quella a difesa della denominazione Prosecco che ora vede scendere in campo anche Coldiretti. Coldiretti a fianco del governo a tutela della denominazione Prosecco. Ettore Prandini presidente di Coldiretti insieme a circa mille imprenditori agricoli ha presentato un atto autonomo di opposizione alla domanda di registrazione della menzione croata Prosec pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Lo rende noto la stessa Coldiretti allo scadere del termine fissato per il ricorso il 22 novembre. Un'iniziativa affermato Prandini che punta a rafforzare con la partecipazione diretta dei viticoltori il fronte nazionale di opposizione alla proposta dell'Unione Europea. La Croazia ha ora 60 giorni di tempo per le contradduzioni così come anche gli altri stati membri possono far pervenire alla commissione atti di adesione all'opposizione formulata dal governo e dalla Coldiretti. Tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto si producono circa 700 milioni di bottiglie l'anno di Prosecco. Nel mondo quasi una bottiglia di vino italiano su sei stappate oggi all'estero e di Prosecco con un incremento dell'export del 40% nel 2021. Un patrimonio del made in Italy che alla fine dell'anno raggiungerà un valore al consumo di 2 miliardi e mezzo, la maggior parte dei quali realizzati sui mercati esteri, con la leadership a livello mondiale in termini di volumi esportati davanti a champagne e cava. Gli Stati Uniti sono diventati il primo acquirente con un aumento del 56%, ma l'incremento maggiore delle vendite, sottolinea Coldiretti, si è verificato in Russia dove gli acquisti sono raddoppiati. In Francia, più 35%, più 33% in Germania nei primi otto mesi del 2021. La PIL delle bollicine made in Italy resiste anche alla Brexit, con la Gran Bretagna che resta il secondo paese per quantità consumate con un più 14% e c'è la prospettiva di ulteriori margini di incremento, visto che il governo ha annunciato il taglio delle tasse sul Prosecco e sui vini spumanti, con una conseguente possibile riduzione dei prezzi di circa 1,3 euro a bottiglia. Andiamo a teatro ora al San Giorgio di Udine, dove nel weekend è andata in scena l'anteprima di Every Brilliant Thing, le cose per cui vale la pena vivere. Dal testo dello scrittore britannico Duncan Macmillan, uno spettacolo coprodotto dal CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, con la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, quest'ultimo anche attore protagonista. Il testo è un testo di Duncan Macmillan, Every Brilliant Thing, abbiamo mantenuto il titolo originale, le cose per cui vale la pena vivere. È una sorta di monologo interattivo in cui succede qualcosa di, secondo me, di meraviglioso, nel senso che quest'uomo ripercorre la sua storia da quando aveva 7 anni fino a quando ne ha 50 e nel raccontare questa storia e quello che succede nel rapporto tra lui e la madre, che è una donna malata, depressa, si fa aiutare dal pubblico. E quindi apre delle parentesi, racconta degli episodi e in questo modo di raccontare coinvolge delle persone, ma in modo molto morbido, in modo molto tranquillo, nel senso che nessuno viene rapito dalla sedia e buttato in mezzo al palco, insomma. Ed è bello perché mette anche in relazione gli spettatori, c'è una dinamica per cui gli spettatori iniziano anche a sviluppare un meccanismo di cooperazione e si ritrovano nella stessa situazione che poi è quello che è il teatro, però in un testo così, fatto a luci accese, in questo modo, tenendo conto che è sempre una specie di confessione il testo, è una confessione intima che diventa a volte anche, ti fa sorridere tutto sommato, ma che parla anche di un tema serio come quello del suicidio. Quindi ragioni da rivivere, condivisione, tematica importantissima che è ancora più in questo contesto pandemico. E probabilmente è questo anche che mi faceva riflettere su questo testo, il fatto che con l'aiuto di tutti quanti, tutti insieme, diciamo si può uscire fuori e in questa storia, diciamo, lui in fondo è come se parlasse a un gruppo di supporto. Uno spettacolo presentato in anteprima qui a Udine e sarà poi in tournée nel 2022. Anche lei come artista, come sta affrontando anche questo periodo, questo aumento dei contagi, tutte le incognite che gravano anche sul settore? Ebbè, siamo lì sul chi vive, perché insomma ci ricordiamo quello che è successo. Cima e televisione si sono organizzati molto presto e bene, per noi siamo controllatissimi, il tampone un giorno sì, un giorno no, e sul set fai una volta a settimana il molecolare. E questo vale per tutti, quindi i set sono abbastanza blindati, ma nonostante tutto ogni tanto qualche contagio c'è anche su un set o anche appunto in una compagnia teatrale. Quindi sì, bisogna fare attenzione, speriamo che non risucceda nulla del genere. Insomma ci sono i vaccini e quindi insomma io sono ottimista. La pagina sportiva ora con l'Udinese che scende in campo domani sera a Torino contro il Granata con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria presosta contro il Sassuolo. Andiamo ad ascoltare le parole di Luca Gotti. Mister, due settimane di intenso lavoro per preparare questa partita, come ci arriva la squadra e se è un piccolo vantaggio magari aver avuto meno giocatori impegnati con la nazionale rispetto al Torino? Rispetto ai due anni precedenti quest'anno abbiamo pochi giocatori che vanno via durante le pause per la nazionale e questo di sicuro ti consente di lavorare meglio, se non altro ti consente di fare dei carichi di lavoro e avere il tempo per smaltirli. Questa settimana ha recuperato un po' gli acciaccati e dà praticamente più o meno la rosa quasi al completo. Quanto può aiutarla questo fattore anche nello studio delle scelte tattiche degli stessi uomini e se altra riguardo può dirci anche come stanno Pussetto e Samir Arslan che si sono riuniti al gruppo? Ovviamente è importantissimo avere a disposizione tutti i giocatori ma avere a disposizione che stanno bene e questo ti consente di avere diverse soluzioni. La realtà è che due o tre giocatori non stanno benissimo e adesso abbiamo ancora 24 ore per capire domani sera 24 ore possono aiutare per recuperare i fastidi di piccola entità. Pussetto, Samir e Arslan che invece avevano avuto problemi prima della sosta hanno già lavorato diversi giorni con continuità e sembrano tutti arruolabili. Dal punto di vista tattico abbiamo visto la difesa a quattro col sessuolo le chiedo se domani ma in generale nel proseguo della stagione potremmo aspettarci un'udinese camaleontica magari? A me piace l'idea di potersi adattare a delle situazioni. So anche perfettamente che non si può cambiare sistema di gioco, idee in continuazione perché alla fine fai un po' tutto ma non fai bene nulla. Noi dobbiamo cercare di mantenere le cose che facciamo bene, di mantenere alcuni dei principi al di là del sistema di gioco con qualità da serie A. Andiamo a vedere l'elenco dei convocati anche se insomma come già anticipato da Gotti non ci sono particolari problemi a parte appunto Macchengo che è squalificato però sono a disposizione Pussetto, Samir e Arslan quindi insomma vedete questi sono i giocatori che stanno raggiungendo Torino per la sfida di domani alle 20.45 allo stadio olimpico. Così come Gotti dice questa è una partita trampolino che ci può lanciare in questo mini campionato da qui a fine dicembre e magari ovviamente riproporci più in alto in classifica Stessa cosa vale un po' anche per Iuric che oggi in conferenza stampa ha detto queste sette gare ci dovranno far capire chi siamo e poi ha parlato anche dell'Udinese. È una società che apprezzo particolarmente perché sanno lavorare calcio come famiglia sanno scegliere bene giocatori che poi fanno tanta strada perché proprio capiscono scegliere bene stanno facendo questo poi fanno collaborazione con Walford che lavorano bene calcio diciamo così penso che Gotti è un ottimo allenatore che sempre abbiamo trovato tante difficoltà contro di loro perché sono giocatori molto fisici molto molto veloci rapidi e poi abbinano sia qualità sia forza fisica per cui ci aspetta una partita difficilissima. Di noi c'è questo periodo per finire, avevamo tanti nazionali, tante piccole problematiche tra Praia e Brecalo che erano là, poi sono tornati, hanno lavorato a massimo anche Sanabria però globalmente penso che pian piano stiamo recuperando e ci sono comunque tante scelte da fare domani. Un'ultima ora che appena arrivata in redazione riguarda la situazione di Casa Serena vi abbiamo raccontato una situazione di difficoltà per il focolaio Covid le notizie sono che devono ancora arrivare i risultati relativi ai molecolari fatti venerdì ma è stata comunque accertata e rilevata la positività di 14 os attualmente in isolamento e al momento tramite tamponi rapidi risultano positivi 26 ospiti che sono isolati e stabilizzati oltre ai tre che vi abbiamo raccontato essere ospedalizzati. Ora la casa di riposo ha chiesto aiuto ad Asugi perché ovviamente manca molto personale e la situazione è difficile all'interno di Casa Serena ma al momento sia sul fronte operatori e sia sul piano ospedalizzazioni la situazione è satura e quindi domani ci sarà un incontro di nuovo con Asugi per trovare una soluzione a questa situazione. Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati sempre per tutta la giornata a partire dalla rassegna stampa di domani mattina alle 7. Ora ci fermiamo qui, vi ricordiamo la prima serata di Udinese TV alle 21 con tutti i temi della prepartita di Torino Udinese ma anche l'analisi della giornata di campionato che si è svolta oggi con molti match importanti. L'appuntamento alle 21 in diretta con Paolo Bargigia e tanti ospiti. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.